Ragazzi, è tornato Tony e si sta riallenando Quindi non vedo l'ora di vederlo in azione Mi raccomando, codice creatore decodrata in abusivo nello shop E seguitemi su Instagram perché ogni giorno giocheremo con due di voi che mi seguono Sia io che Zeta, che Tony, visto che sta tornando vero gli ex Quindi mi raccomando, link in descrizione e poi vi taggerò anche Tony e Zeta Che se lo meritano, dai, se lo meritano un po' di spam ogni tanto Tony, stiamo arrivando, eh Ci ha ucciso il botto, stiamo arrivando con calma, dobbiamo suscitarci Dove ci lanciamo, Zeta? Da qua, da qua A me mancano poco, mancano pochi secondi Lanciati, lanciati, Zeta, arrivo insieme a te Tony, stiamo arrivando, eh Insomma, Zeta, manco suscitarti Così si fa, Zeta, così Guardami, guardami, da qua PAM! Non ho perso vita Siamo con Tony, ce l'ho promesso È tornato sul serio questa volta, eh Ti ricordi l'ultimo video, Tony, con Alias? Sì Oppure il video precedente in cui hai fatto Quante kill? 20 kill? 21 kill Sì, sì, 19 Vecchia, 19 kill Ragazzi, aveva già promesso di ritornare Però questa volta è ufficiale, eh Ti voglio Capito? Al 100% Ti piace questa season? Ti sta piacendo? Sì, sì, mi piace Ok, ragazzi, quindi È fortissimo, Tony, lo sappiamo Ed è forte anche per il suo ping Che ha 0 di ping È un PC della Madonna Possiamo affermarlo meglio del mio Ping, meglio del mio Riflessi meglio dei miei Perché quanti anni hai, Tony? Ricordalo Quanti anni hai? 12 Tra due settimane e 13 Ricorda che sei solo versus trio Perché non funziona, ragazzi Non funziona ancora il guarda Dopo 40 settimane Dai che è tuo, dai che è tuo Ti fa 180 con lo spasso Porco due, l'ho detto L'ho detto Però almeno hai lo spasso Ebbene, le banane Le banane che piacciono Non sa caggiare Diciamolo Però non se le mangia Ci fa qualcos'altro Non spoileriamo Guardate quanti mazza Quanta ha farmato Infatti io già stiamo stati così A parlare del futuro Va bene Tony, picca qualcuno Dei 29 Cioè non devi Cioè non voglio fare un video Cioè su come si farma Eh? La gente lo sa Però fra sei messo male A parte lo spasso Nella R Non hai cure Cioè non hai cure Fosse in te Ok le bende non sono cure Cioè sono cure Ma comunque fosse in te Proverai a farmare l'arco Ok c'è qualcuno là Primo fight Ti hanno visto Vediamo se sono bravi 3 contro 1 Ricordiamo Un shockwave incredibile Un shockwave un po' Sull'albero Comunque si sta riallenando Si sta riallenando Tony, no? Sì sì Adesso è vero che è molto più fluido Molto più fluido Dell'ultima volta Oh vabbè Fra è un bot Fra è scarso L'hai fatto L'hai fatto Vediamo un po' Dove sono gli altri due Vediamo dove sono gli altri due Ok Io non li vedo nella mappa O è perché sono Tu l'hai visti Tony? No Non sono qui Evidentemente era un bot Era un bot Primo fight Un bot Ci sta ragazzi Deve riscaldare Oh c'è qualcuno C'è qualcuno Un altro nemico Tony la mira un po' Da rivedere Però si sta riallenando Eh Zedale hai detto L'ho visto Si sta riallenando Flex Non spiegare troppi materiali Ok Ok Non era entrando Quel colpo La mira c'è La mira c'è Sto scherzando ragazzi Attenzione Il nostro Tony Il più piccolino del team Uno dei più forti Uno dei con i riflessi Più a palla Giustamente Perché è molto piccolo E tra l'altro È anche intelligente Perché ragazzi Sappiamo sempre Che uno è Oh bello Vabbè Ragazzi L'ho completamente distrutto Questo spazio è devastante Non farà più 200 In testa Ma in corpo Tira hit incredibili Prima vi ricordate Lo spazio ogni tanto 20 25 Oh attento Attento Ti ho fatto un bel settante Anche lui C'è qualcosa è andato Spama con la prima Oh lo ti ho sparato in poppa Mitraglietta primordiale Ti stavo sparando Una mitraglietta primordiale Che è fortissima Perché spara attraverso Ragazzi C'è qualcuno dietro l'albero C'è qualcuno dietro l'albero Vediamo se è un degno avversario Comunque abbiamo notato una cosa Oh Porca miseria Quello era Rara Croft sul serio Ragazzi avete visto L'arco incendiario Per un attimo Mi sembrava di stare su Tomb Raider Vi giuro Vi giuro Non rischiare troppo Vabbè ragazzi Abbiamo notato una cosa Comunque Che nelle pubbliche trio Sono quasi tutti scarsi Però vedremo alla fine Perché sicuramente Qualcuno forte Una trio forte ci sarà Oh Attenzione Questa vanno Erano pericolosi Come armi erano pericolosi Quanto ti stai allenando Te Tony Attualmente 3-4 ore al giorno Addirittura Quindi sta tornando Sta tornando sul serio Non è un blef Z Sta tornando sul serio Tonino È ritornato Carico di prima Più carico di prima Signori Tony voglio le 10 bombe 10 bombe Per forza Z 10 bombe Sennò è una delusione Ma se le fa tranquillamente Se le fa ma certo che se le fa Basta un'altra trio Sta già 8 E poi due stronzetti Che non li trova Ragazzi non li trova Comunque questa season Mi sta casando anche a me Purtroppo non ho così Tanto tempo per giocare Però anche io sto tornando a giocare Giocherò un'oretta e mezza al giorno Non di allenamento Ma di gioco effettivo In creative In pubblica sto giocando di meno Perché non riesco a trovare qualcuno Ai miei livelli Cioè di potenza Quindi mi annoio Con gli altri Provo tutte le kill Ho giocato così Dall'altro giorno Ma no Non è Oh ma tutte Oh ragazzi Tutte le era croft Con gli archi Ma che Vabbè questi sono bot Madonna Ma no no Sono bot Programma C'è peperoncini I bot Possono avere peperoncino No Eh no La skin La skin Non è peperoncino Fra Z Secondo te Sono bot Erano bot Cioè bot Si Ma programmati o reali Cioè persone umane Reali Reali C'è ragazzi Ma esiste ancora gente Così scarsa Si piace questa season Ma significa che questi Hanno incominciato a giocare In tre Quindi tre amici Hanno incominciato a giocare E in questa season Per essere così Neanche buildare Oppure sulla montagna Erano bot Però questo Cioè Non lo so Fra Si Ma stanno comunque Controtuni Si ok Ok che Tony è forte Ma questi Sapevano giocare Cioè Nulla da togliere a Tony L'ha distrutto Completamente Anche flexato Però Cioè non capisco Cioè non capisco Cioè ha già otto kill Però questi Questi almeno sanno spammare Sanno giocare I materiali ne ha Neanche da vendere Ne ha da vendere Lo blocca No Tony Stai attento Io fossi in te Mi farei uno shieldino Prima di tutto Bravissimo Questi ti spammano in tre Che questa è la season Tra l'altro Dello spam E' un po' difficile Rocco ha vinto Tre verso su Ma quale season Fra Nella season Vecchia Con duorco Con duorco Distrutto 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 Hai le shockwave Sempre ricorda Si Ma sai che buttano giù Sono scesi troppo Ok let's go Let's go Un'altra shockwave No fra No fra Qua sotto No non si sa dove andare Poi Spreghi un sacco di materiali Ok ne ci spuglie Fatti lo scudone Ne ci spuglie Fatti lo scudone Let's go Ragazzi Comunque come skin E' bellissima L'Ara Croft E' veramente figa E' nel pass Non vedo l'ora Di sbloccare Il livello finale Quello della playstation 1 Questo se non sbaglio E' quello della 360 Di Tomb Raider Remastered Qualcosa del genere I primi Tomb Raider Ok Donny preparati L'ultima safe Ti spammeranno Con i peggio archi Fidati Probabilmente non vincerà Per gli archi Perché da solo Contro delle che spammano Immaginati Uno con quello incendiario Uno con quello a grappolo E uno con quello puzzolente Cioè fra E' devastante Tu pensano a trio Cognuno Mamma mia Non ci posso pensare Questi archi maledetti Porca miseria Questa mitraglietta È andato ragazzi È troppo spam Guardate Guardate Oh mio dio 52 Bello Bello 52 Ce n'è un altro qua Ma Ma chi sta sparando quello Purtroppo non recupera vita Cioè 126 Da l'ha tolto 126 Da l'ha tolto Comunque uno te lo sei fatto Mamma mia C'ha lo shieldone Ricordati eh Ti stanno bussando Ti stanno bussando Per fortuna Per fortuna Quello colpo po' mitica Andato Vabbè Dove stanno sparando Sono bravi Oddio 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 No 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 Si è pagato No 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 Cacchio Mi sa tu Bello Let's go Lara Croft L'ennesimo Lara Croft È andato al baretto Ora Ora non ti devi far uccidere Hai medikit Hai shieldone Ed è rimasto da solo Ragazzi Senza spam Questi non hanno la forza Cioè E infatti Si sta vedendo Purtroppo C'è stato un piccolo problema Lo scudone è rimasto in safe Ok Colpo al cuore Per fortuna Medikit Vabbè ragazzi 0 Quanto hai di ping attualmente Tony Spiega 1 No eh No 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 Ragazzi Non si era notato Tu l'avevi notato Cioè i colpi Mica gli entravano 11 kill Per il signor Tony Attenzione Se li uccide tutti Può arrivare Addirittura 16 kill Non stanno spammando lui Ok Ok No Tu devi spammare Dico No 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 Ok ragazzi Come sta giocando Il signor Con due Con due Deve salire Il problema Che non ha shockwave Non ha niente Oddio 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 Questo è pagato Dove scappa Dove esce fuori Secondo me hanno busciato Dalla montagna Sono proprio scesi Sono proprio scesi Mamma mia Che situazione Che situazione A cardiopalmo Oddio E presa il muro Presa il muro No sta voltando Oddio 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 Spammano Ma si sono accaniti In tre controtoni Tony I materiali Le hai Non troppi Praticamente spiegato Tutto il mattone Hai per oltanto Metallo Hai praticamente Mille mazzi Mille mazzi Mille mazzi Non c'è Di un'ora Che poi Volevo sceltino Perché quelli Ti fanno 120 Fida di la prossima It saranno 120 Quindi stai attento Buono 20 Non si butta 104 Quella che salvaggiare Non ricordiamo Non manca mai Nei miei video Una 104 Questi rimangono in safe Te lo dico io Almeno che non abbiano l'arco Rocco 2 Ho sentito un colpo di arco Da quell'andato Let's go Un'andato Problema Ok Avevano l'arco Però lo sta usando male Non sta salendo Mamma mia Tony come l'assero Attento Attento No vabbè L'altro team Ma cos'è Tutti contro Tony Tutti Questi si sono messi là Tony Purtroppo C'è un problema C'è un problema Non può raccogliere i materiali Di quelli sotto Sarebbero stati utilissimi Hanno il P90 Addirittura Il P90 Addirittura Tony di lì puoi fare Se riesce ragazzi Il ritorno di Ma Quello è Attento 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 Tony Non hai mazzo 112 Ok No Dove Dove Devi uccidere Devi rendere mazzo Tony sei pazzo Tony mi hai fatto prendere un colpo E' fortuna ti ha tolto solo 20 Non è più materiali Non è più materiali Dove sono tutti Ok Eccolo quello si sta lanciando sotto Quello sta pushando Guarda No 40 49 49 Vedi che te lo fai 49 Che te lo fai Ragazzi ma che partita Mi sto portando Che partita Il grande Tony è tornato Il grande Tony è tornato Ragazzi anche se non riuscisse a vincere Oddio questo sale così Da tanto non vedevo questo build così Che lo butta giù easy Mamma mia si è coperto al momento giusto 7 Oddio non ho più mazzo Tony Ma questo però si è fatto giù Porco Due Non aveva materiale E' morto per i materiali E' morto per i materiali Gli ha detto veramente sfiga Che non è riuscito a prendere Quelli dell'albero Del nemico Che aveva appena ucciso Ma comunque Tony continua ad allenarti Continua ad allenarti Perché già stai diventando un mostro Seda Applauso A Tony Ragazzi 5.000 like per Tony Applauso Mi raccomando GG Tony GG Tony GG GG Atenzione 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 Atenzione